Dottor Bianchi, da oggi sino al 17 aprile presso il Museo Teatrale Carlos Milt, nella sua sede di Palazzo Gobcevic, nel nome di Giuseppe Tartini si inaugurano due mostre. Esattamente, sono due mostre che sono frutto di una collaborazione molto importante, di un collegamento trasfrontaliero tra le istituzioni museali, in questo caso tra i musei di Pirano e i musei di Trieste. E nel nome di Tartini, attorno al nome di Tartini, si coagulano in realtà una serie di altri istituti, enti e soggetti, perché per l'intera durata di apertura della mostra sono previste una serie di iniziative che vedono coinvolte il Conservatorio Tartini di Trieste, che peraltro è presente anche con una sezione di propri materiali tartignani, mostra l'Atelier Tartini di Lubiana e il Tartini Festival di Pirano. Quindi una grande abbuffata tartiniana, scusate il bisticcio di parole, per rinsaldare i legami tra la città di Pirano e la città di Trieste, attraverso queste due mostre che sono nate in due momenti diversi, che sono state curate entrambe da Duska Zitko, che è la collega curatrice conservatore del Museo di Pirano, e che illustrano, una, l'attività di Giuseppe Tartini e il significato, il suo significato storico in ambito italiano ed europeo nel corso del Settecento, e l'altra che concentra l'attenzione su un momento particolarmente importante per la memoria, per la ricezione tartiniana nel tempo successivo alla scomparsa di Giuseppe Tartini, che è morto nel 1770, vale a dire il monumento che a fine Ottocento fu commissionato allo scultore veneziano del Zotto e che fu inaugurato in piazza Tartini a Pirano nel 1986.